salve cari amiche e cari amici in molti mi avete chiesto già da tempo di fare dei nuovi tutorial di gastronomia casareccia e io vi accontento oggi vi presenterò niente di meno che la mia ricetta per fare gli strudel alla mela spero che vi possano piacere se vi piace questo video date un clic sul bottone grazie e se vi piace questo canale che volete sostenerlo abbonatevi al canale io faccio questi programmi di gastronomia casareccia per portare la cucina nella casa di tutte e tutti voi con dei piatti semplici economici facili da prepararsi e quindi vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi buon ascolto buona visione e rimaniamo in contatto ditemi cosa ne pensate dei miei video e commentate qui sotto quale altro piatto di gastronomia casareccia vorreste che io prepari la prossima volta arrivederci e grazie dal vostro youtuber italiano santi cian ciao a un attraparso in quella città il senario della progettazione della guerra in Ucraina che cominciò il 24 di febrero i membri del battaglio della sol in Ucraina esconditi in la gran planta siderurgica di Arsostale il viernes ha rechazato le sopporte di Russia per la presidencia per la presidencia della guerra in Ucraina per la presidencia della guerra in Ucraina sappiamo quali è la postura della ONU in relazione a quello che ha lavorato fino a qui che ha fatto avanti Mosca che ha stato condenato nel regime di Putin in la ONU però il titolare il segretario generale di Ucraina va a viajar e va a farlo il prossimo martes 26 di abril quando arrivi a Mosca per mantenere conversazioni con il ministro de luce di Exteriore e anche il presidente Vladimir Putin. Questa informazione la confirma il proprio Kremlin, il museo del Kremlin di Pesco, che confirma quindi che Putin va a rendirsi con il secretario general della ONU. Di tutte le maniere non trascendono più detalle delle cose che si va a trasformare, lo che si confirmò Naciones Unite è che il secretario general se va a rendir con Putin. Con lo quale la ragione sta confirmata in ambos settori, tanto per lavoro come per il proprio Kremlin. Qualche cosa sto facendo. Non ti preoccupare, viene buono. Certo, io non ho strudel molto grosso, bello grosso. Lo che hanno fatto, Dio mio, los mapuches. Mirà, mirà, mirà. Mirà la calle, firma eso. No, no, quello già. Mataron un camionero. E io dico, che gli ha fatto un camionero? Nada, però è la guerra dello mapuche. ... 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